Signore e signori, buonasera, benvenuti a casa mia, benvenuti ancora di nuovo, ben ritrovati qua nel solito usuale disordine della mia libreria. Allora, 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 cari signori, il bello, mettiamola così, il bello di far parte dei gruppi di discussione Facebook sulla Seconda Guerra Mondiale è che, come dire, si trovano ogni tanto cose molto, molto, molto interessanti, spunti per discutere, interessanti considerazioni, boiate assurde, ne abbiamo avuto qualche esempio recentemente e, ripeto, veramente cose di cui parlare. Questa mattina mi sono ritrovato un interessante post in cui il professore Antonio Brancic mi ha proposto un breve post di Pensieri Sparsi, poi troverete il link nelle descrizioni. Dicevo, Pensieri Sparsi ha scritto un breve post sui motivi della presa del potere del fascismo e parla di omertosi complici del fascismo. Allora, Pensieri Sparsi è un ricercatore, fa ricerca storica non tanto sui libri, vabbè, come faccio io, che sono un semplice appassionato, sono un normale appassionato di storia che ha letto qualche libro e si diverte a fare video. Dicevo, come dire, la ricerca storica compiuta non nei libri, che spesso e volentieri sono i memoriali dei personaggi storici che tendono sempre a indorarsi un pochino la pillola fra di loro, ma se si consultano, dicevo, le documentazioni conservate negli archivi, c'è la possibilità di comprendere la storia patria o quantomeno di riflettere sulle probabili ragioni degli eventi stessi. Allora, Pensieri Sparsi aveva consultato il registro matricolare di un carcere del giorno 17 maggio 1935 con l'indicazione dell'ingresso in prigione di un famoso antifascista, uno stimato educatore di bambini piemontese, il maestro Paolo Minuto, che fu arrestato non dalle forze di polizia giudiziaria, ma dalla milizia paramilitare, ovelo sia la MWSN, la Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale, insomma le camice nere. Successivamente Minuto fu spedito al confino di polizia, ordinato dal Ministero degli Interni, in persona dal capo della polizia. La milizia fascista fu il braccio armato del Partito Nazionale Fascista, e specialmente per il successo delle elezioni del 6 aprile 1924, e fu una degli artefici, le camice nere furono tra gli artefici delle fortune del regime fascista. Quelle elezioni, quelle del 6 aprile 1924, si sa bene che furono caratterizzate da violenze, omicidi e prepotenze, e tant'è che il 30 maggio del 1924 Giacomo Matteotti contestò il risultato delle elezioni, col risultato di essere ammazzato, come ben sapete, da un'altra struttura paramilitare fascista, la cosiddetta cieca del Ministero degli Interni, Duminio e Soci. Il fascismo non divenne però regime e dittatura da solo, in ragione dell'avvento tumultuoso e violento di un gruppo di fascinorosi e truculenti personaggi. No. Allora, la storiografia ufficiale, ci dice pensieri sparsi, anche quella di origine cattolica e marxista, in sostanza dice, insomma, per sommi capi, dice che ad un certo punto il paese non volente venne assalito e dominato per oltre vent'anni da Mussolini e dai suoi accoliti. L'avvento del potere sarebbe avvenuto senza che nessuno abbia potuto contrastare o impedire il colpo di Stato. E qui, ci dice pensieri sparsi, questa tesi si dimostra falsa e storicamente priva di fondamento. Vediamo un po' perché. Due dei complici, forse quasi i maggiori, sono stati due miti per il paese e per il nostro esercito. Ovvero sia, parliamo del generale Armando Diaz, cioè il vincitore della Prima Guerra Mondiale, e il duca del mare, ammiraglio Paolo Emilio Taondi Revelle. Allora, i due personaggi convinsero il re a non impedire la marcia su Roma e in cambio divennero, nel primo di Castero Mussolini, Diaz, ministro della guerra, e Taondi Revelle, ministro della Regia Maria. Come ministro del governo Mussolini, in uno dei primi consigli dei ministri, diedero il proprio decisivo voto in favore del progetto di disegno di legge istitutivo della milizia fascista, confluito nel regio decreto legge 14 gennaio 1923, numero 31. In cambio, sia Diaz che Taon di Revelle ebbero prebende e benefici patrimoniali e personali. Allora, mettiamola così, ci dice sempre Pensieri Sparsi. Martiri del fascismo come il povero Paolo Minuto devono la loro detenzione, la privazione della libertà personale, ovvero le loro sofferenze, a esponenti del mondo liberale prefascista, quali due prestigiosi esponenti del mondo militare. Diaz e Taon di Revelle. Eppure, ancora nel 2018, individui come quei due supposti eroi militari sono rammentati ed onorati, dimenticandosi, o meglio, e qui diciamo che ci sono le dolenti note, dicevo, dimenticandosi, o meglio, volendo dimenticare, il loro decisivo apporto alla nascita e all'affermazione della dittatura fascista. Allora, senza l'apporto di queste persone, come i deputati della ventisettesima legislatura 1924-1929 e altri similari politici della borghesia prefascista, il fascismo non sarebbe stato quello che è stato e il paese non sarebbe precipitato nel caos e nella disperazione delle leggi fascistissime, delle leggi razziali e soprattutto della disastrosa, catastrofica e atroce disfatta della Seconda Guerra Mondiale. Probabilmente sarebbe necessario modificare gran parte dei libri di storia, prosegue Pensieri sparsi, visto che molti di essi, semplicemente ed ancora, attestano che il fascismo sia stato solo un fenomeno di una presa di potere violenta da parte di un gruppo di scalmanati criminali. In realtà, e qui è la parte conclusiva e interessante dell'intervento di Pensieri sparsi, fu un accordo politico ed economico che ebbe da una parte Mussolini e i suoi accoliti, la maggior parte dei quali privi di cultura e di educazione, e dall'altra la classe politica borghese che pensò nel 1922 di poter continuare ad esistere e comandare anche col fascismo. Un'esposizione, quella di Pensieri sparsi, breve, interessante, che fornisce interessanti spunti di considerazione. Se vi ricordate, qualche tempo fa avevo recensito un libro che si intitolava Fascisti di Giordano Bruno Guerri, libro del quale considero caldamente la lettura perché, ripeto, Giordano Bruno Guerri può non piacere ma ha una capacità di analisi rara a trovarsi e mettiamola, e diciamola anche così, una linguaccia, insomma, come Giordano Bruno Guerri, un ingegno, una testa come quella di Giordano Bruno Guerri è in grado, come pochi, di analizzare la mentalità degli italiani, le loro pecche, il loro carattere nazionale, la devastante, se vogliamo, incapacità del popolo italiano di esprimere un singolo peto di libero pensiero. Il fatto è che spesso e volentieri ci si dimentica proprio di quello che scrive Pensieri Sparsi, cioè che i cosiddetti poteri forti dell'epoca erano tutt'altro che dispiaciuti dell'avvento del fascismo al potere. industriali, agrari, medio-alta borghesia, cioè tutti personaggi che, mettiamola così, erano terrorizzati dalla possibilità di una rivoluzione di stile russo-sovietico qua in Italia dopo le vicende del bienio rosso. Una politica, quella della borghesia italiana e del mondo politico liberale prefascista che portò veramente l'Italia alla catastrofe. In molti dei libri che ho recensito su questo canale ci sono accenni più o meno documentati, più o meno corposi alla incapacità del regime fascista di essere una entità amministrativa organica e capace. Insomma, siamo sinceri, il partito fascista, che era il partito Stato tanto caro a Mussolini e anche a Starace, non fu mai in grado di passare oltre i limiti dell'ideologia fascista. e i rituali da caserma ne abbiamo parlato più volte, i rituali da caserma, la mentalità burocratica, gretta e ottusa instillata da Starace nel partito, nello Stato e nel Paese, la passività di una borghesia e di una classe media interessata soltanto a difendere i propri privilegi e assolutamente incapace di guardare oltre la collina, capace soltanto di essere troppo furba per essere intelligente. Pensieri sparsi in questo suo post, in questa sua breve esposizione, punta il dito contro due esponenti, due prestigiosi esponenti militari italiani, ovvero sia Armando Diaz e Taon di Revelle, due dei vincitori della Prima Guerra Mondiale e il fatto che i due personaggi siano stati ministri nel primo governo Mussolini ci fa capire che la presa del potere, la cosiddetta rivoluzione fascista fosse stata tutt'altro che una rivoluzione, ma era stata semplicemente come dire, la presa del potere da parte di Mussolini grazie all'appoggio, alla complicità, alla spinta di forti esponenti della borghesia e delle altre sfere militari. Indubbiamente. Cioè, se ne sono dette tante e se ne diranno tante ancora per anni. però, ripeto, è una cosa che secondo me non è mai stata abbastanza come dire, studiata perché si preferisce come dire, si preferisce affrontare discorsi più semplici, meno complessi, meno insomma, meno dietrologisti se mi perdonate la brutta parola c'è insomma senza fare dove si può fare meno dietrologia perché sulle cause sugli appoggi politici sugli appoggi economici che il fascismo ha avuto per salire al potere c'è un'ampia bibliografia in proposito. Ci sono studi ci sono per esempio ho parlato più volte dei libri di Salvatorelli e Mira nei quali come dire la presa del potere da parte del fascismo è analizzata in maniera oseri dire chirurgica e esemplare e ripeto l'argomento di discussione che voglio lanciare con voi con questo video è veramente quanto ha contato nella salita al potere del fascismo l'appoggio delle forze delle alte sfere delle forze armate l'appoggio dei potenti agrari che temevano di dover dare la terra ai contadini a cui era stata promessa dopo la prima guerra mondiale l'appoggio degli industriali e della borghesia imprenditoriale che erano terrorizzati ripeto all'idea di una rivoluzione di stampo socialista o comunista qui in Italia che vi devo dire? Io sono qua aspetto le vostre considerazioni aspetto come dire i vostri pareri aspetto che voi espugnate quello che pensate a proposito di questa di questa breve considerazione fatta da pensieri sparsi che ripeto breve concisa interessante e da approfondire con cura quindi cari signori aspetto i vostri commenti aspetto quello che avete da dire e come sempre arrivederci al mio prossimo video buonasera grazie a tutti